Prima sono state chiamate microzone rosse, poi sono state ammorbidite in arancione rinforzato. Al di là delle sfumature di colore, la sostanza del nuovo provvedimento è che dal 21 al 25 aprile i comuni della provincia di Pesero Urbino, Montelabate, Vallefoglia, Tavuglia e Acqualagna vedranno limitazioni agli spostamenti in ingresso e uscita dai territori alle sole e comprovate ragioni di salute, lavoro e necessità primarie. Rosso chiaro o arancione scuro, perché comunque rimarranno aperte attività commerciali e rimarrà pure la scuola in presenza. Per le marche, che puntano a diventare zona gialla dal 26 aprile e che hanno pure i numeri giusti per farlo, c'è però un'amministrazione che dunque vuole gettare acqua su fiammelle prima che diventino focolai. Per farlo, per cinque giorni si accenderà un semaforo rosso di controlli e autocertificazioni su circa 35.000 abitanti del Pesarese. Da Tavuglia a Montelabate, da Vallefoglia ad Acqualagna, la scelta non è affatto piaciuta ai sindaci dei comuni coinvolti. Un'ordinanza tardiva, almeno di un mese, noi avevamo un picco massimo di 140 contagi, un minimo di 43. Oggi siamo 83, proprio sul filo 250-059, quindi entriamo proprio per caso. Ovviamente già la zona arancione prevede che non ci possono essere spostamenti nemmeno dal proprio comune, se non per andare a fare la spesa per mangiare, per ragioni di salute e per ragioni di lavoro. Il problema è avere grande attenzione al rispetto delle regole. Noi ci siamo raccomandati quotidianamente ai cittadini di non fare assolutamente assembramenti, di mantenere la mascherina, di mantenere le distanze di due metri, almeno un metro, e di fare l'igienizzazione. Poi noi siamo un territorio dove vengono da tanti altri territori a lavorare nelle fabbriche, ai supermercati, alla Casa della Salute che riguarda tutti i territori, quindi è evidente che è più facile avere un maggior contagio. Quindi dal 21 al 25 bisognerebbe rispettare, bisogna rispettare rigorosamente le regole per ritornare ad avere un ulteriore calo di contagi e soprattutto per andare a fare tutti i vaccini. Io andrò giovedì mattina a fare il vaccino e quanto mai è necessario fare tutti i vaccini. Scetticismo anche da chi non è stato coinvolto dal provvedimento. Vedi il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. È stata una scelta bizzarra quella fatta dalla regione ieri su questi quattro comuni. L'abbiamo detto alla conferenza dei sindaci perché i dati complessivamente sono in calo. In più alcuni comuni, penso Montelabate, Vallefoglia, Tavuglia, sono un tutt'uno col comune di Pesaro dal punto di vista della popolazione. Il distretto di Pesaro anche oggi sono arrivati i numeri e è in calo. Quindi mettere questi comuni in arancione rafforzato per quattro giorni, cinque giorni, non si capisce che effetto può avere. Fra l'altro è un'ordinanza confusa perché dice non puoi uscire di casa, però sono aperti i negozi, sono aperti i bar. E quindi se puoi andare nel bar e nel negozio è una causa, è una giustificazione valida. Quindi non è neanche in verità un arancione rafforzato. Quindi ieri abbiamo detto che secondo noi era meglio aspettare e poi eventualmente lasciare i comuni ancora in difficoltà da lunedì, non gialli ma arancioni, perché presumibilmente le marche potranno tornare gialle da lunedì se i dati nei prossimi giorni verranno confermati. E quindi la cosa più logica era dire da lunedì le marche torneranno gialle, ma questi comuni che abbiamo attenzionato, se i dati non cambiano, rimarranno per un'altra settimana arancioni. Era una cosa molto più logica, l'abbiamo proposta in tutti i modi, ma probabilmente avevano già deciso anticipatamente.